ciao amici ciao amiche benvenuti in un nuovo vlog flash siamo da carrefour quello sotto casa perché guardate cosa mi sono venuto a prendere cosa mi prende la mia dolce mogliettina il frappuccino della starbucks al caramello che questa è udite udite perché ho fatto fuori piacciono troppo e anche le mozzarelli una volta odiavo queste cose ragazzi un attimo guardate una cosa questi qua che sono normali 2,59 non sono quelli zero grassi e zero zuccheri mentre quelli noi miserabili 6 gli paghiamo quasi quattro euro vergogna signor aktime per piacere metti in offerta anche quelli piccoli ci fa una cosa gigante cioè quelli senza zucchero senza grassi vergogna questa è una vergogna ma veramente signor aktime vergogna si vergogni bene bene ci vediamo con un prossimo vlog flash